ciao a tutti per questo primo appuntamento assieme a il veronese magazine gioco in casa visto che vi parlerò di un aneddoto meteo su il mio paese caprino veronese e ne avrei tanti di aneddoti da raccontare da questo punto di vista su sul luogo dove vivo però volevo oggi raccontarvi un qualcosa accaduto più o meno 8 anni fa perché eravamo a fine marzo del 2000 del 2013 anche allora eravamo nella settimana che precedeva pasqua e quella mattina quando mi svegliai trovai 56 centimetri di neve che ricoprivano praticamente la piana la piana caprinese e fu una sorpresa sicuramente c'è una delle nevicate diciamo più tardive che ricordi fu però diciamo inserita in un contesto di un inverno quasi eccezionale non solo per caprino ma per tutto il veronese perché in quell'inverno il 2012 2013 nel mio paese ci furono circa 13 nevicate l'ultima appunto a fine marzo eccezionale quella come non tanto come durata perché si sa che la neve marzolina dura dalla sera alla mattina ma sicuramente come come tempistica molto avanti con la stagione come dicevo fu un inverno eccezionale un po per tutto per tutto il veronese per tutte le nostre montagne sul baldo alla fine si accumularono più di 11 metri di neve stessa cosa sul carrega però per caprino quel quel risveglio fu sicuramente un risveglio diverso dagli altri per quanto riguarda invece il meteo del weekend guardate potrebbe essere un po più nuvoloso rispetto alle giornate che ci hanno che ci hanno preceduto quelli giorni scorsi ma nonostante questa possibile nuvolosità non sono previste piogge serie sicuramente potrebbe arrivare qualcosa nelle zone alte quindi attaccate alla montagna in generale per tutta la nostra provincia ma sicuramente non sono previste precipitazioni importanti qualche goccia o qualche sguassotto potrei a farlo ma niente di niente di che saranno più che altro giornate variabili ecco mettiamola così non mi resta che salutarvi ciao alla prossima ciao 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 ciao